ciao a tutti i ricordini video sono lori e oggi che facciamo oggi mi è arrivato un pacco ve lo faccio vedere eccolo qui non so cosa sarà no io lo so cosa sarà voi non sapete cosa sarà una cosa che non ho aspettato un sacco di tempo apriamo il pacco non faccio mai vedere i pacchi che sono arrivati perché o faccio questo tik tok oppure su instagram ok apriamo il pacco cos'è raga ma vedete cinese ma cos'è 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 avete capito cosa avete capito già questa qua c'entro sono formine di fare biscotti lo so sono formine fare biscotti dei popemons si non ho mai avuto i popemons a me non ho mai avuto le formine dei popemons mai bello dai faccio vedere da vicino raga avviso non so i nomi però so solo il nome di pikachu e ivy e bassa perché io non seguo i popemons però so solo questo nome di pikachu e ivy e bassa questa non so quale popemons è vabbè questo è facile pikachu che sono rosa raga non so perché sono rosa perché hanno fatto così non lo so questo è fatto facile va due anni proprio mon ok questo è carino raga non so non ho saputo il nome eccolo la papera lo so la papera beh poi c'è questo un draghetto con fuoco bellino da sandellino lo so la fasi pochi però mi sono solo questo poi c'è niente non so come si avete capito se l'avete capito se l'avete capito poi c'è l'ultimo passaggio che sto guardando me qua ho detto io raga chi ivy 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 e questo è ivy spero tanto questo video sia piaciuto mettete like lo so che non ho detto i nomi come si chiamano però sono solo due nomi che so dire bene ok che non faccio vedere che non faccio vedere i biscotti fatti perché non c'è un impasto ok o se la faccio vedere su instagram non lo so ok che è piaciuto solito mettete like e iscrivetevi commenti ciao alla prossima